e home a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video allora una premessa prima di iniziarlo è sera barra notte fonda e quindi non mi si vede benissimo faccio questo video veramente molto piccolo per dirvi barra informarvi che mi dispiace della piccola pausa che purtroppo ho dovuto fare per via dello stage e quindi non sono arrivati tanti video ma non vi preoccupate in questi giorni ho tempo e farò dei video dai a day in the life fino a minecraft fino a che ne so allora domani in teoria dovrebbe uscire un video dove vado a lucerna o anche oggi non so quando caricherò questo video quindi sparatevelo sarà bello sarà figo perché comunque vado con mio padre lo aiuto a fare delle cose sono illuminato tipo gesù cristo aspettate ho l'aureola e niente ragazzi poi arriverà un altro video di mv3 come ve l'ho proposto un po di tempo fa dove giochiamo ancora io mio amico con il cecchino con la msr niente di che un video così a caso tanto per proporvelo direi che ho detto tutto quindi se questo video vi è piaciuto come sempre lasciate un like un commento positivo continuate a seguirmi come sempre e non vi preoccupate che adesso video arriveranno perché ho finito lo stage direi che ci vediamo al prossimo video e sciva a tutti ragazzi